Il Vescovo dei Migranti Francesco Montenegro, nominato Cardinale, poco meno di tre mesi fa, si fermerà a Fanno venerdì 8 e sabato 9 maggio per raccontare la propria esperienza sul fenomeno e sugli sbarchi a Lampedusa. Organizzato dalla Commissione Diocesana Migrantes, dalla Caritas Diocesana e dalla Scuola di Pace, il programma degli incontri è stato presentato al Centro Pastorale Diocesano. Due giorni con il Cardinale Montenegro ed è un'opportunità straordinaria sia per la società civile che per la comunità cristiana per approfondire il tema attualissimo delle migrazioni. Io spero che davvero tutta la città, la diocesi e la chiesa locale possa essere presente a questi appuntamenti. Il Cardinale arriverà a Cartoceto dove si svolgerà la cerimonia inaugurale del monumento in memoria dei migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo. In questo, ha spiegato Don Alessandro Messina, non compaiono simboli religiosi, a dimostrazione di come non deve essere la diversità religiosa a dividerci. Inoltre, al centro della barca sono presenti solo alcune mani, quelle di chi non è riuscito ad attraversare il Mediterraneo, ma anche le mani simbolo di speranza, di coloro che da quelle acque sono stati tratti in salvo. Sarà presente alle ore 18 a Cartoceto per inaugurare questo monumento e poi celebrare la Santa Messa nel santuario diocesano di Cartoceto alle 18.15. Saranno presenti anche i rappresentanti della comunità islamica di Fano, oltre che alcuni ragazzi richiedenti asilo che attualmente sono ospitati nelle strutture di prima e seconda accoglienza nel nostro territorio. Lui è l'arcivescovo di Agrigento, nella sua diocesi è presente nel suo territorio l'isola di Lampedusa e se il Papa l'ha nominato cardinale proprio per questo suo forte impegno nell'accoglienza dei migranti. Non dimentichiamo che il cardinale Montenegro è presidente della commissione episcopale Migrantes e quindi ha avuto non solo, sia anche a livello istituzionale, ma come sensibilità personale, questa forte attenzione verso i migranti. Venerdì sera poi alle ore 21 incontrerà la città e la diocesi al centro pastorale di Via Roma. Dopo un'introduzione del vescovo Armando Trasarti, il cardinale interverrà sul tema a periferie dell'esistenza centro dell'impiego umanitario e cristiano. Il nostro paese è sempre di più un paese di transito, non diciamo di accoglienza permanente, ma le persone arrivano qui in Italia per poi spostarsi in altri paesi d'Europa dove stabilirsi. Cercheremo ovviamente di affrontare poi questa tematica così vasta e ampia anche con i giovani. Infatti sabato 9 maggio il cardinale incontrerà alcuni studenti del liceo scientifico Torelli di Fano proprio per dialogare con loro e affrontare quindi la tematica delle migrazioni e soprattutto della costruzione di una società che sia accogliente e inclusiva nei confronti di tutti.